Manfred von Richthofen, il Barone Rosso. Quando Manfred era piccolo, era sufficiente sussurrargli la parola caccia per svegliarlo di notte. Con il suo primo fucile ad aria compressa, uccise tre anatre addomesticate della nonna, poi si fece un trofeo con un pezzo di cartone e tre penne prese dalle sue prede. Nel 1903, a 11 anni, entrò nella scuola militare di Wahlstadt e, con gli anni, diventò sottotenente di cavalleria. Cavalcare era la sua altra grande passione. Una volta, in una corsa campestre, venne disarcionato e si ruppe una clavicola. Risalì in sella, cavalcò i restanti 70 chilometri e vinse la gara. Solo dopo si fece medicare. Era quella la sua natura, andare a caccia, rincorrere onori e trofei. Quando scoppiò la guerra nel 1915 ne fu contento, ma quando tornò a casa in licenza era stranamente rabbuiato. La cavalleria è inutile in questa guerra. Guardatemi, mamma, al fronte sono addirittura ingrassato. Sono sicura che ci saranno altre opportunità. Non quelle che io cerco. Non sono stato addestrato per questa guerra. In effetti, la grande guerra è molto diversa da quelle che l'hanno preceduta. Il fronte occidentale si è affossato nelle trincee e quando vi fa ritorno il ventitreenne barone tedesco Manfred von Richthofen si ritrova di nuovo impotente sotto il fuoco nemico. Ula testa, Manfred! Moriremo come topi. Nel disonore più totale. Dobbiamo fare qualcosa. Sì, scappare su uno di quelli. No, gli aeroplani sono un grande imbroglio. E perché? Tra un po' dei nostri cavalli ci faranno bistecche, ma gli aerei resteranno. In effetti, c'è già chi chiama i piloti i cavalieri delle nuvole. Manfred medita sulla cosa, ma i suoi superiori hanno progetti diversi per lui. Carichi amministrativi. Signore, non sono venuto in guerra per finire dietro a una scrivania. Ah, no? E cosa vorresti fare? Combattere? Volare? A fine maggio del 1915 diventa uno degli ufficiali assegnati all'unità di addestramento aereo della settima sezione di reclutamento piloti a Colonia. Diplomatosi, viene mandato sul fronte russo a fare voli di ricognizione per la 69esima unità del 6º Corpo d'Armata Imperiale Austro-Ungarico. Il suo primo pilota è Georg Zoymer. Ma tutti mi chiamano Gatto Nero. Sei superstizioso? No, ho la tubercolosi. Non mi rimane tanto da vivere, e quindi me la gioco volando. Spero che per te la cosa non sia un problema. Si ritrovano insieme nella 4ª Armata delle Fiandre, dove imperversano le aviazioni britanniche e francesi. Ora non si tratta di fare solo voli di ricognizione. Quando il 1º Settembre avvistano un biplano Farman inglese, sanno che devono ingaggiare battaglia. C'è in coda! Scrollalo di dosso! Spara, maledizione! I due aerei si girano intorno, cercando il modo per colpirsi. Alla fine l'inglese desiste e se ne va. Come potevo colpirlo con te che volavi in quel modo? Ah, è colpa mia! La verità è che chi pilota dovrebbe anche sparare. Gli andrebbe di darmi lezioni di volo? Manfred impara in fretta. Ci mette poco più di un mese per fare il suo primo volo. Non è male, a parte l'atterraggio un po' brusco. Vuole diventare un pilota di caccia. Il suo eroe è Oswald Belke, vincitore di quattro combattimenti aerei, beniamino della stampa di guerra. Un giorno lo incontra su un treno militare. Mi dica come fa. È abbastanza semplice. Volo dritto sul nemico, prendo la mira, sparo e lui va giù. Manfred ha deciso. Vuole addestrarsi sui cacciamonoposto, ma il suo comandante lo assegna prima alla protezione antiaerea, poi sul fronte russo, dove compie operazioni di bombardamento. Ma non è quello che vuole fare. Il 15 agosto riceve una visita inaspettata. Si ricorda di me? Oswald Belke. Come potrei dimenticarmi? Non sapevo che fosse da queste parti. Mi hanno allontanato dal fronte. Pare che non possano rischiare che io muoia per la propaganda di guerra. Comunque devo mettere insieme una squadra di piloti. Se potessi esservi d'aiuto. È per questo che sono qui. Mi va di unirvi al mio gruppo? Tre giorni dopo, Manfred è diretto al fronte occidentale per unirsi alla seconda squadriglia da caccia del Regno di Prussia, sotto il comando di Oswald Belke. Il 17 settembre ottiene la sua prima vittoria. Non avevo ancora la convinzione che dovesse cadere come ce l'ho adesso. Ero invece ansioso di sapere se sarebbe caduto. Seguono altre vittorie. Spesso insegue gli aerei abbattuti a terra per prenderne un pezzo come trofeo. Raggiunge quota 6, Belke è a 40. Ma anche il grande asso non è invincibile. Durante una battaglia, si sfiora con un altro aereo della sua stessa squadriglia. All'inizio scese normalmente. Poi gli si spezzò un'ala e precipitò. Belke morì all'istante. Anche gli avversari gli rendono onore. Il Royal Flying Corps fa cadere in terra tedesca una corona funebre con la scritta A ricordo del capitano Belke, nostro coraggioso e leale nemico. Manfred scrive alla madre. Sono morti sei dei nostri in sei settimane. Altri due sono stati sollevati per esaurimento nervoso. I miei di nervi ancora reggono bene. Senza Belke, ora è Manfred il capo riconosciuto in volo. Ma anche gli inglesi hanno i loro assi. 23 novembre 1916. La squadriglia di Albatros tedeschi incrocia un gruppo di De Havilland inglesi. L'avversario che si è scelto Manfred è un osso duro. Si tratta di Lano e Hawker, il primo a ricevere la vittoria cross per combattimento aereo. Manfred è in difficoltà. Tanto più che gli si è inceppata la mitragliatrice e deve sistemarla in volo. Poi, alla fine, è la sua undicesima vittoria, la più sofferta. Scende a prendere la mitragliatrice dall'aereo inglese, il pezzo di stoffa con il numero di serie. Presto però deve traslocare. Viene nominato ufficiale comandante dell'undicesima squadriglia. E due giorni dopo riceve la medaglia pur le merit. È lui il migliore pilota vivente. E forse non è più a caccia di medaglie, ma solo di aerei nemici. Per distinguersi, decide di dipingere il suo aeroplano di rosso. I suoi piloti però non ne vedono i vantaggi. Così gli inglesi vi riconoscono subito. Sanno chi puntare. Preferisco che la clientela venga da me piuttosto che andarvela a cercare. Dicono che abbiano messo una taglia su di voi. Fateci dipingere anche i nostri aerei di rosso. Meritatelo. Poco a poco, anche i suoi piloti cominciano a dipingerli, ma con piccole differenze per riconoscersi l'uno dall'altro. I problemi con gli aeroplani però sono di altra natura. Dopo la diciottesima vittoria Manfred è costretto ad atterrare per un'ala spaccata. Il nuovo Albatros D III è difettoso. A Manfred è andata bene. Ad altri due piloti è costata la vita. Intanto, la sua fama viene sfruttata dalla propaganda, storie, fotografie. Manfred ne approfitta per chiedere i piloti migliori, come aveva fatto Belke prima di lui. presto la squadriglia 11 pullula di assi dell'aria. Domenica 4 febbraio 1917. Gli Stati Uniti stanno per entrare in guerra e il conflitto comincia a pesare in Germania. Manfred si presenta a casa a fare visita alla madre. Ho litigato con quelli dell'ispettorato. Non si possono far volare con roba del genere. Ti preoccupi di questo, ma poi dipingi il tuo aeroplano di rossa. Perché rischi la vita in questo modo? Per gli uomini nelle trincee. Voglio rendere quell'esistenza orrenda che fanno un po' più tollerabile, tenendo lontano gli aerei nemici. È qualcosa che non dice a nessun altro. Al fronte è un uomo riservato. È pragmatico negli insegnamenti, spietato nei duelli. Raggiunge le 20 vittorie, ma anche lui non è invulnerabile. Un giorno viene colpito. Sente odore di benzina e distinto spegne il motore, evitando che prenda fuoco. Dietro di sé lascia una scia di fumo bianco, quella che ha causato spesso agli avversari, quella che precede sempre un'esplosione. La sorte però lo assiste. Il motore non esplode e riesce ad atterrare in un prato. Un'ora dopo è di nuovo in volo, su un altro aeroplano. Intanto, anche il fratello Lothar è diventato pilota e viene assegnato proprio alla sua squadriglia. Fa comodo alla propaganda avere due Richthofen che combattono insieme. Io comunque ti tratterò come tutti gli altri. È quello che mi aspetto. Ti dico subito di tenere a bada la tua impulsività. È una cosa che non tollerò nel mio gruppo. Sì, signore. Chiedo però una concessione. Vorrei portare in volo il mio frustino. È un portafortuna. Non c'è spazio nell'abitacolo e, in cambio, gli regala i guanti di pelle con cui ha conseguito dieci vittorie. Sono in molti i piloti che credono nella fortuna e circolano storie di disgrazie avvenute a chi ha violato le proprie scaramanzie. A cominciare da Belke. Aveva sempre proibito di essere fotografato prima di un volo. Trasgredì proprio prima della missione in cui morì. Manfred non è superstizioso. Aprile 1917. Gli inglesi lanciano un massiccio attacco terra-aria. È il periodo peggiore per le forze aeree britanniche. Il migliore per Manfred von Richthofen verrà ricordato come l'aprile di sangue. Se non lo prendono in volo, gli inglesi ci provano a terra, bombardano il suo campo d'aviazione. Lui non si fa intimidire e raggiunge le 40 vittorie, eguagliando Belke. Un giornalista viene mandato al campo d'aviazione per intervistarlo. Negli occhi di Richthofen brilla l'orgoglio del cavaliere in guerra, il cui scudo ed elmo sono riconosciuti e temuti dal nemico. È inoppugnabile che gli antichi valori cavallereschi sono vivi nei moderni combattimenti aerei. Richthofen e i suoi giovani guerrieri hanno un portamento simile a quello dei signori medievali, con i loro standardi scintillanti, i blasoni e le bandiere di battaglia. È ormai una leggenda. Proprio per questo la sua morte sarebbe un colpo durissimo al morale e alla propaganda. Non mi sembra che abbiano tutti i torti, fratello mio. Corre voce che gli inglesi abbiano creato delle squadriglie anti-Richthofen. Ciocchezze. Sono più pericolosi questi inviti per non farmi combattere. Medaglie da ritirare, incontri. Una non la posso rifiutare, però. Sono stato invitato al supremo quartier generale dal Kaiser. Beh, congratulazioni. Comunque voglio prima arrivare a 50 vittorie. Fa di meglio. Arriva a quota 52. Poi parte. Per una volta vola da passeggero e su scenari pastorali e non teatri di guerra. La destinazione è la città termale di Bad Kreuznach. Da qui il Kaiser segue il conflitto. Le vostre geste sono giunte fin qui, mio caro Richthofen. Kaiser, voi mi lusingate. Mi è stato detto che oggi è il vostro venticinquesimo compleanno. Ho per voi un regalo. Questo busto di bronzo che mi ritrae. Signore, non ne sono degno. Non scordatevi mai del vostro ruolo. Voi siete l'eroe nazionale. Manfred trascorre due giornate piene di impegni solenni. Conosce l'imperatrice. Cena con il fel maresciallo a von Hindenburg. Poi viene spedito a Berlino all'ispettorato dell'aviazione militare per posare per un nuovo ritratto fotografico da usare nelle cartoline di propaganda. Ansioso di lasciarsi la vita sociale mondana alle spalle, Manfred va a trovare la madre. Tuo fratello Lothar. Lo so. È finito in ospedale. Ma se la caverà. Sapete che in mia assenza ha battuto l'asso inglese Albert Ball? Ha sempre cercato di emularti. Manfred, fuori c'è qualcuno che insiste per vederti. Il suo arrivo non è passato inosservato. Centinaia di persone hanno assediato la casa. Con pazienza Manfred riceve varie delegazioni dai movimenti giovanili al consiglio municipale che gli offrono fiori, doni e logi. Tutte quelle attenzioni gli pesavano. Voleva tornare al fragore dell'elica. Voleva ogni giorno rinnovare le sue conquiste a rischio della vita. Al fronte ottiene nuovi più importanti carichi. Per reagire alle grandi formazioni inglesi l'aviazione è stata riorganizzata. Ogni quattro squadriglie si forma uno stormo da caccia. Il primo viene assegnato a Manfred. Il suo quartier generale è il castello di Marc Boecke in Belgio. I tentativi di sfondamento del nemico continuano e ogni attacco è più violento del precedente. Le truppe di terra subiscono in continuazione i bombardamenti e le mitragliate dei caccia. Il nostro compito sarà quello di neutralizzare la contraerea e eliminare i caccia monoposto e le squadriglie di bombardieri. Il primo giorno d'attività del primo stormo è intenso fin dall'alba. Servono più missioni per respingere gli aerei nemici che mitragliano a bassa quota. Manfred individua dei biplani F.E. Second. Sono un'ottima preda. Spara un raggio per indicare i suoi di seguirlo all'attacco. Il mio avversario scese in picchiata verso di me. Era ancora lontano quando iniziò a spararmi. Provai a piazzarmi dietro di lui e a colpirlo sul fianco ma all'improvviso sentii un colpo in testa. Per un attimo rimasi completamente paralizzato dentro la fusoliera. non riusciva a muovere né gambe né braccia. Non ci vedevo più. Cominciai a precipitare. L'aereo scende senza controllo. Le ali vibrano pericolosamente. Manfred si sente spacciato ma riesce a muovere una mano. Spegne il motore. Poi gli ritorna alla vista. L'altimetro indica 800 metri. Riavvia il motore. Vira ad est. Vede che due dei suoi lo stanno scortando. Riesce ad atterrare in un campo d'erba e subito viene portato in ospedale. Allora dottore è serio? Ha un bel buco in testa. Il cranio però non è perforato. È la mia testa dura di Richthofen. La ferita gli causa forti emicranie ma il dolore maggiore è sapere che gli inglesi incalzano e che il suo stormo sta subendo gravi perdite. Dal letto di ospedale fa quello che può. Scrive all'ufficiale tecnico del comando per protestare sulle direttive del suo superiore Otto Buffet. Sfrutta la mia convalescenza per emettere ordini idioti su come lo stormo dovrebbe volare su come dovrebbero effettuarsi i preparativi per il decollo. Ha travisato le mie direttive tattiche e gli inglesi hanno fatto quello che hanno voluto. Alla fine Buffet viene allontanato. Lui ritorna al comando gli vengono promessi nuovi aerei più competitivi. Quando torna a volare mette a segno la sua cinquantottesima vittoria ma la ferita alla testa è ancora fresca. Il rumore del motore gli è insopportabile. Dall'alto gli viene proibito di volare se non in occasioni eccezionali. Un'incursione inglese è la scusa perfetta per risalire sul suo albatros rosso. Manfred insegue gli incauti attaccanti e mette la sua cinquantanovesima vittima. All'incursione successiva è la numero 60. Gli alti comandi però gli impongono una licenza di quattro settimane. Manfred si sfoga andando a caccia. Va anche a fare visita alla madre. Con orrore ho constatato che la ferita che ha alla testa non è guarita. L'osso è ancora esposto. Ogni giorno deve farsi cambiare le bende in ospedale. Ha una brutta cera ed è irritabile. Prima mi sembrava invincibile come un giovane Siegfriedo. Ora Manfred perché non smetti di volare? chi combatterebbe la guerra se la pensassimo tutti così? Guarda la gente che ti viene a trovare che ti ringrazia lo fa perché hai già fatto abbastanza. Quando volo sopra le nostre trincee e i soldati gridano di gioia vedendomi e io guardo le loro facce consumate dalla battaglia allora sono felice e quella è la mia ricompensa. Quando riesce a tornare al fronte rimane subito vittima di un incidente. Il suo nuovo Fokker si sfascia al contatto con il terreno. Nesce illeso ma molto scosso. Per di più è un periodo concitato. Il fronte è molto mobile. I campi d'aviazione vengono trasferiti più volte. Quando può vola e combatte alla fine del 1917 a quota 63 vittorie. Le autorità però interferiscono di nuovo. Vogliono lui e il fratello Lothar sul fronte orientale dove si sta trattando la pace con il governo rivoluzionario di Vladimir Lenin. La presenza dei due assi dell'aviazione è un tentativo di intimorire i russi. I bolshevichi però non sono facilmente impressionabili. Tra di loro c'è anche una certa Anastasia Bizenco che attira l'attenzione di Manfred. Non è quella che assassinò un generale anni fa durante la rivoluzione contadina? Sì, è lei. Si è fatta dieci anni di lavori forzati in Siberia. Mi piacerebbe parlarle. Credo che abbiamo qualcosa in comune. La conversazione però non avviene. Le trattative poi non portano a molto. I russi prendono tempo speranzosi nelle rivolte comuniste in Germania. Manfred viene spedito addirittura nelle fabbriche di munizioni per sedare i lavoratori in sciopero. Un giorno tornando a Berlino si ferma alla galleria d'arte di Sculte. C'è un quadro che lo ritrae a bordo del suo aereo. È un'immagine solenne eroica come piace alla propaganda. Mi scusi signore ma mi è stato detto che assomiglio all'uomo nel quadro. Credo che si sbaglino. grazie. Prima di tornare finalmente al fronte passa a trovare la madre. Sarà alla sua ultima visita. Stavo riguardando delle vecchie foto con i tuoi compagni. Che fine ha fatto questo? Eravate buoni amici? È caduto in battaglia. E questo? È morto anche lui. Sono tutti morti. Restò da me poco tempo. Troppo poco. Quei giorni lo guardavo anche quando dormiva e il suo volto sembrava contratto dal dolore. Forse era per la ferita alla testa. Forse aveva visto la morte troppo spesso. Al fronte si confronta con i soliti problemi. I nuovi triplani sono inefficaci e gli ordini dall'alto non gli permettono un'indipendenza operativa. Intanto gli inglesi imperversano nei cieli e il suo stormo subisce gravi perdite. Un giorno anche suo fratello Lothar non torna da una missione. Manfred si reca al capanno operativo. Notizie. È arrivato questo comunicato. il sottotenente Von Richthofen si è schiantato nei pressi di Cambry ed è morto. Un attimo ne sta arrivando un altro. Il sottotenente Von Richthofen ha effettuato un atterraggio d'emergenza e ha subito una grave ferita all'occhio. dammi le coordinate. Vola fino al luogo dell'incidente per accertarsi del destino del fratello. L'aereo è messo peggio di te. Forza devo portarti via di qui. Lo sapevo. Che cosa sapevi? Oggi è il 13. Il mio numero sfortunato. Forse Manfred sente che la fortuna si sta allontanando anche da lui. Il 15 marzo 1918 consegna al suo aiutante il tenente Carl Bodenschartz una busta con il sigillo dello stormo. Se dovesse morire è quello il testamento ufficiale in cui designa il suo successore. Fa spostare il campo più vicino al fronte per essere vicino alla battaglia dove la sua fama però richiama visite non richieste come quella di una delegazione del Reichstag. I politici arrivano in limousine si aggirano tronfi fanno discorsi a cena si abbuffano vengono poi alloggiati nelle baracche spartane dei piloti che li guardano con crescente disgusto. Sono emozionato. passano una notte in baracca così posso non puoi dire di aver patito le sofferenze del fronte. Dovremmo fargli provare meglio cos'è la guerra. Avrei un'idea. Nel cuore della notte le porte delle baracche si spalancano e i politici escono terrorizzati in camicia da notte. Tornate dentro! Dentro! Ma cos'è? Mio Dio! Lei d'aereo! Il giorno dopo i politici partirono in tutta fretta senza neanche fare colazione e noi ridevamo ancora. Anche il barone che di solito si tiene in disparte non è riuscito a trattenersi. Le cose allegre al fronte sono poche e quando si presentano se ne prova piacere per molto tempo. Manfred conquista la sua settantacinquesima battaglia ma il nuovo traguardo non sembra dargli gioia. Mangia il pasto della sera con volto buio. È una strana sensazione. Ancora una volta ci sono due uomini morti. Sono là da qualche parte carbonizzati mentre io adesso sto qui a mangiare e il cibo ha lo stesso sapore di sempre. Tu fai il tuo dovere nessuno lo fa come te. Ne ho parlato con il Kaiser e sai cosa mi ha detto? I miei soldati non uccidono uomini ma nientano l'opposizione. In un solo giorno abbatte tre aeroplani e non smette di riflettere. Nella mia stanza pende dal soffitto una lampada costruita con il motore rotativo di un aereo nemico che ho abbattuto. È un lampadario fantastico e sinistro. Lo guardo spesso quando so sdraiato a letto e mi viene da pensare. La battaglia su tutti i fronti è diventata orribilmente seria. Adesso dobbiamo armarci contro la disperazione perché il nemico non violi il nostro paese. Non è rimasto niente della bella guerra allegra come venivano chiamate all'inizio le nostre imprese. Il 20 aprile 1918 parte con sei aeroplani contro un grande stormo nemico. Si mette dietro un Sopwith F1 e lo colpisce facendolo precipitare. Dopo tre minuti è già in coda a un altro. L'avversario cercò di eludermi scendendo in picchiata per poi risalire ma io mi portai a distanza accettabile e gli sparai finché non prese fuoco. La fusoliera bruciò in aria. Il resto dell'aeroplano si schiantò a nord-est di Villiers-Bretonneux. Dopo scesi lentamente sopra le trincee tedesche perché tutti riconoscessero il mio aereoplano rosso. Aveva raggiunto 80 vittorie il doppio di Belke il suo eroe. Era il migliore in assoluto e lo sapeva. Era all'apice del successo a due settimane dal suo ventiseiesimo compleanno ma a un solo giorno dalla morte. Ci avevamo provato tutti a farlo ritirare imbattuto. L'ultimo a provarci fu il suo aiutante il tenente Bodenschatz. Stava aspettando con Manfred che si diradasse la nebbia per cominciare le operazioni. Insomma con la tua esperienza avresti un'ottima posizione come ispettore dell'aviazione. Uno che passa le carte. No. Rimango al fronte. Forza dai la nebbia sta scomparendo. Non si è mai saputo con certezza chi lo ha abbattuto se un caccia inglese o la contraerea. Sono in molti che hanno voluto prendersene il merito. È accertato solo che un proiettile gli trapassò il cuore in volo. Era la mattina del 21 aprile 1918. Quasi tre mesi esatti prima della fine della prima guerra mondiale. Buon pomeriggio a tutti da Antonella Ferrera e ben ritrovati alla Storia in giallo. Oggi è con noi Gregori Aleggi che insegna storia dell'aeronautica presso l'Accademia Aeronautica a Roma e redattore della testata aerospaziale Dedalo News e anche il maggiore esperto italiano di conservazione e restauro degli aerei storici. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie dell'invito. Prima di parlare del Barone Rosso bisogna introdurre il tema dell'aviazione perché fu proprio durante la prima guerra mondiale che fu usata sistematicamente. Lei addirittura sostiene che si è inventato l'aeroplano durante la prima guerra mondiale. Sì, il primo volo a motore è nel dicembre 1903 quello dei fratelli Wright. Dieci, dodici anni dopo l'aeroplano è ancora un attrezzo sportivo più maturo raggiunge già i 200 km all'ora ma è comunque un fenomeno elitario e privo di utilità pratica. Gli aeroplani sono una via di mezzo fra la Formula 1 e lo spettacolo la gente paga il biglietto per andare agli air show a vederli eccetera. La prima guerra mondiale fa nascere l'uso su vasta scala vengono prodotti 200.000 aeroplani. Nasce quindi l'industria nascono le scuole di volo nasce un corpo di esperienza tale da permettere finalmente di capire cos'è l'aereo cosa può fare e come va usato. Alla fine della prima guerra mondiale quei 200 km all'ora che qualche anno prima erano un primato sono la norma. I piloti sono dei professionisti non sono più degli individui di talento o dei fenomeni da baraccone quindi è la prima guerra mondiale che inventa l'aereo. Ecco e proprio su quegli aeroplani nacquero gli assi dei cieli quindi piloti che diventano non solo professionisti anche di più quasi degli eroi dei miti dell'epoca possiamo dire che il barone rosso fosse il numero uno? Beh i numeri parlano da sé il barone rosso è il pilota in tutto il mondo che nella prima guerra mondiale ha conseguito più vittorie in combattimento aereo 80 e sono in grandissima parte confermate vittorie si intende l'abbattimento di aereo non necessariamente l'uccisione ma comunque la distruzione dell'aereo in tutte le guerre in tutti i paesi c'è sempre stata difficoltà a confermarle gli inglesi ad esempio davano una vittoria anche quando un aereo veniva visto scendere apparentemente privo di controllo non più comandato dal pilota in realtà buona parte di quelle cose non erano vittorie erano manovre evasive poi il pilota raddrizzava e tornava a casa le vittorie del barone rosso ci sono lui spesso atterrava e ritagliava dei souvenir ci sono le foto di questa sua stanza dei ricordi con le matricole le targhe degli aeroplani quindi indubbiamente sono confermate e quindi 80 vittorie confermate ne fanno il numero uno Rick Toffin scrisse un manuale operativo di combattimento aereo ecco qual era il suo approccio al volo alla battaglia aerea pare che fosse molto pragmatico i due principi adottati universalmente da tutti i grandi piloti a caccia sono di sparare poco e molto da vicino sparare tanto e da lontano ha un aiuto psicologico fa rumore ma disperde i colpi già allora gli aeroplani anche con quelle velocità hanno una velocità relative di 300 400 km all'ora tra chi si avvicina e chi si allontana e quindi sparare a casaccio serve a poco quindi il consiglio era sempre di avvicinarsi il più possibile e quando il bersaglio riempiva il collimatore sparare poche raffiche bene aggiustate e lo si abbatteva ovviamente più facile a dirsi che a farsi bisognava saper pilotare bene riuscire a stare incollati all'avversario mantenendo però gli occhi aperti per non farsi abbattere molto spesso ci si fissa sul target sul bersaglio e qualcun altro si mette in coda e ci spara quindi era un gran pragmatico un cacciatore sparava poco e a colpo sicuro e come nacque il suo appellativo Barone Rosso il nome di battaglia per caso? in realtà nasce da un fatto tecnico nella prima guerra mondiale gli aeroplani non avevano la radio e si comunicava l'uno con l'altro poco più che a gesti quindi con una portata di alcuni metri lo spazio a cui si può vedere muoversi una mano Richthofen per farsi riconoscere dai suoi dipinge l'aereo di rosso dopodiché i suoi colleghi incominciano a dipingere di altri colori molto vivaci tant'è che il reparto diventa noto come circo Richthofen perché è molto molto vivace anche poco militare se si vuole ma in realtà questa gaiezza di colori nasce da un'esigenza militare vedersi riconoscersi contarsi ma lo riconoscevano anche gli avversari però anche gli inglesi certo però quando la sua fama raggiunse certi livelli era anche un fatto positivo perché riconoscerlo incuteva timore il pilota avversario specialmente inesperto spesso cambiava strada e tornava indietro il fenomeno si ripete ad esempio nella seconda guerra mondiale con un altro asso tedesco Hartmann che ha totalizzato 352 vittorie è il più grande asso di tutti i tempi quando lui si accorge che gli avversari russi in quel caso vedendo il suo aereo riconoscendoli in segna si allontanavano incomincia a darlo ai piloti meno esperti all'ultimo arrivato che così diciamo poteva affrontare le prime missioni con un certo grado di sicurezza proprio perché gli avversari sarebbero stati a distanza quindi farsi riconoscere non era uno svantaggio senta è vero che c'era una certa forma forse c'è anche oggi una certa forma di cavalleria nei cieli fra i piloti esistono molte storie di piloti e avversari che si congratulavano a vicenda per un buon combattimento episodi del genere ci sono soprattutto all'inizio della guerra quando era un circolo molto piccolo molto ristretto e i piloti si sentivano accomunati al di là dell'essere sui lati diversi del fronte da questa fratellanza dell'aria da fare un qualcosa di eccezionale che gli altri non facevano tant'è che abbiamo numerosi messaggi conservati quando un pilota veniva abbattuto dietro le linee spesso l'avversario lanciava un messaggio che guardate è vivo è sano è prigioniero è morto avvertite la famiglia eccetera queste cose esistevano sappiamo che Baracca spesso andava a trovare i piloti avversari feriti si preoccupava eccetera Francesco Baracca sì sì abbiamo testimonianze eccetera che il comportamento fosse universale che sia durato per tutta la guerra però è un'esagerazione con l'incattivirsi della guerra col prolungarsi del combattimento diventano tutti un po' più pragmatici si combatte per vincere e la cavalleria diminuisce molto quindi oggi non esiste assolutamente più oggi è possibile con i moderni data link non solo sparare molto lontano ma sparare su qualcosa che nemmeno si vede su qualcosa che è stato acquisito da un altro sensore da un radar da un'altra parte che ha passato il segnale a un satellite che me lo passa al mio e io sparo su qualcosa che non so nemmeno cosa sia e dove sia quindi gli spazi sono molto ridotti per quel comportamento di riconoscimento dell'avversario come uomo senta Leggi Manfred von Richthofen non fu l'unico della famiglia a distinguersi nell'aviazione ci fu anche suo fratello Lothar e forse anche suo cugino la famiglia Richthofen era un'antica famiglia russiana nobile quindi tradizioni militari molto forti Manfred viene dalla cavalleria quindi è un'arma tipicamente nobile si annoia molto e passa in aviazione viene poi seguito dal fratello Lothar che è nel suo stesso reparto e che è anche lui un asso di buon livello e infine c'è il cugino Wolfram che sopravvive anche lui alla guerra e ha una lunga carriera nella Luftwaffe tedesca con fittissimi contatti con l'Italia è addetto aeronautico in Italia conosce Italo Balbo eccetera nel 28-29 poi comanda la Luftwaffe in Spagna e quindi di nuovo lì a contatti con l'Italia poi è comandante del corpo aero tedesco in Sicilia e poi alla fine nell'ultimo scorcio di guerra nel nord Italia e quando è tra l'Ustwaffe con la Repubblica Sociale quindi Wolfram è l'italiano della famiglia mentre sul fronte italiano Manfred il barone non si è mai visto c'è un asso con l'aero rosso ed è un asso austriaco però talvolta noi oggi troviamo delle forme come dire di memorialistica indotta dove la gente racconta che ci fosse il barone rosso in Italia no è Brumowski che ha un albatros rosso per gli stessi motivi ma non c'entra niente con Manfred von Richthofen senta seppur morto giovane von Richthofen ebbe il tempo di scrivere anche un'autobiografia e con umanamente che figura ne emerge? von Richthofen effettivamente muore giovane perché nasce nel 1892 e quando muore nel 18 ha solo 26 anni quindi una carriera velocissima e brevissima l'autobiografia in realtà è stata messa assieme dopo la guerra da un altro membro della famiglia da Bolko e ci testimonia dell'enorme popolarità di Richthofen come degli altri assi a prima guerra mondiale umanamente è una persona abbastanza fredda è molto tipicamente militare prussiano concepisce il combattimento come la caccia con l'avversario proprio come un trofeo molto più che come un dovere militare di doverlo combattere proprio la caccia un fatto sportivo in cui prevale il migliore non un dovere in qualche modo è un uomo freddo un uomo molto molto efficiente un comandante molto carismatico assolutamente però non traspare un grande senso di umanità ecco però questo non li impedì certo di diventare oltre che un asso un mito proprio dell'epoca e sulla figura dei piloti nonostante i numerosi tentativi di discreditarne l'immagine ma questo è un fatto che avviene probabilmente solo nel nostro paese ancora oggi alleggia una sorta di alone mitico non è così? assolutamente la prima guerra mondiale è stata una guerra di numeri una guerra di masse posso fare un esempio che c'entra poco con l'aviazione ma chiunque abbia visto il film Il Signore degli Anelli ecco Tolkien l'autore era oltre che un accademico un professore di filologia a Cambridge uno dei tanti sottotenenti di fanteria di complemento che hanno fatto la prima guerra mondiale la visione degli orchi di queste masse senza nome assolutamente disumanizzate eccetera è la sua trasposizione metaforica dell'orrore del trincee che lui ha visto della distruzione dell'umanità in questo quadro veramente orchesco subumano il pilota è un mito spendibile i comandi militari prima bocciano guardano con una certa scetticismo misto a paura l'eroe individuale perché sembra minare la disciplina poi si rendono conto che è un qualcosa che si può offrire al paese che si può offrire al pubblico per nobilitare uno sforzo bellico che nella media è invece disumano Ritofen come Baracca come Guinemer diventano subito oggetti di venerazione di leggenda troviamo frasi molto simili nelle loro lettere dove si lamentano addirittura dell'attenzione sono militari freddi che vivono in un circolo chiuso e ricevono lettere di ammiratori dall'America dalla Francia sono infastiditi gente che gli chiede foto con dedica autografi che non possono andare in giro perché vengono assaliti dagli ammiratori questo mito nasce in parte spontaneamente ma in parte proprio indotto per dare una nobilitazione via di fuga dagli orrori di una guerra di massa ed è rimasto insomma alleggiato sempre insomma sulla figura dei piloti questo mito indubbiamente all'epoca era un'abilità un talento naturale e anche qui il fatto che molti venissero dalla cavalleria oltre che indicare un'estituzione sociale indica quell'istinto di saper ragionare e di utilizzare un qualcosa di indocile come il cavallo o l'aereo oggi naturalmente il contenuto è molto più professionale ci sono molto meno come dire prime donne ma professionisti formati seriamente sia civili che militari però questo mito un po' eroico è rimasto sia in positivo che in negativo vediamo in positivo ecco il pilota americano dell'ammaraggio recente sull'Hudson ha fatto scattare subito nel nostro subconscio tutta questa serie di significati profondi che abbiamo recuperato e in senso negativo viene talvolta utilizzato per screditare un gruppo di persone dicendo che si credono ancora di essere il barone rosso eccetera ma sicuramente questo mito questa sensazione di una qualità in più di un qualcosa di più della persona media è rimasto senta leggi ci furono altri assi in grado di competere con il barone rosso tra gli italiani ad esempio beh ogni paese ha avuto degli assi dei piloti di maggior successo rispetto agli altri basti pensare che ci sono fatto uno studio sistematico che dice che più o meno solo il 5% dei piloti ha avuto combattimenti aerei e il 5% di quelli diventa asso quindi una percentuale ridottissima come mai? ecco Silvio Scaroni uno dei nostri assi in un suo libro autobiografico l'ha detto in maniera anche molto poco elegante ha detto che in cielo il soldato il pilota è solo se non se la sente di combattere può sempre tornare a terra e dire guarda che il motore non funzionava guarda che ho avuto un problema e nessuno lo potrà smentire chi voleva vincere chi voleva fare risultato ci metteva del suo andava a cercarsi le occasioni questo è vero per tutti è vero per Richthofen è vero per Guinemer è vero per Baracca dire chi fosse più bravo è più difficile perché basti pensare che di quei 200.000 aeroplani che citavamo prima 150.000 sono francesi tedeschi inglesi quindi stanno tutti quanti sul cielo francese c'è una densità enorme ci sono più occasioni gli inglesi poi con il loro comandante Trenchard hanno una dottrina offensiva Trenchard in termini calcistici dice è vero che chi non prende gol non perde ma chi non ne segna non vince e quindi lui va all'attacco e quindi portando la guerra in territorio tedesco ha anche molte più perdite quindi i Richthofen i Boelke i grandi assi tedeschi hanno molte più occasioni ci sono più aerei e combattono di più sul fronte italiano gli austriaci costruiscono sì e no la metà degli aerei italiani quindi ci sono pochi nemici da combattere il tempo è mediamente peggiore e quindi le 34 vittorie di Baracca è vero che sono poco più di un terzo di quelle di Richthofen ma bisognerebbe vedere quante sono rispetto alle occasioni di abbattimento certo è inutile fare un discorso assoluto sì ecco sui numeri sui numeri noi abbiamo lettere di Baracca per esempio della primavera del 18 nel quale si lamenta furiosamente della mancanza di austriaci e commenta ironicamente sul fatto che un reparto da caccia inglese lì vicino rivendica vittorie continue e lui si chiede ma chi abbattono che gli austriaci noi non li vediamo nemmeno quindi fondamentalmente sottrittenendo che dicono bugie quindi è difficile dire che sia più bravo in assoluto non basta il numero per giungere a una conclusione univoca senta siamo quasi giunti alla conclusione le faccio la domanda però più ovvia chi ha ucciso il Barone Rosso il Barone Rosso muore in un episodio minuscolo di questa guerra mondiale muore il 20 aprile del 18 durante un'azione a bassa quota che si conclude con l'aereo a terra e lui morto in quel momento era inseguito da due caccia inglesi di May e quello di Brown ma gli stavano sparando anche da terra quindi chi abbia sparato la pallottola d'argento quella che lo uccide è uno dei gialli una delle cose che più appassionano gli appassionati di aviazione sono state fatte addirittura delle prove di tipo come dire medico-legali un po' RIS di Parma perché l'aereo del Barone Rosso fu subito spogliato tutti volevano un souvenir del nemico ucciso beh prendendo questi pezzi con i buchi ricollocandoli sulla forma dell'aereo sono state calcolate le traiettorie per vedere se il colpo fosse venuto da sopra o da sotto eccetera in realtà è una domanda poco rilevante gli stavano sparando da sopra e da sotto l'aereo era tutto colpito era un colabrodo dire quale colpo l'abbia ucciso più degli altri è probabilmente un modo anche ingenuo di rappresentare la guerra uno di questi colpi l'ha ucciso comunque furono gli inglesi assolutamente e a terra c'erano gli australiani gli australiani c'è una divertente storia di cortomaltese di ugo pratt e pratt da artista immagina che gli abbia sparato questo fante australiano tra l'altro ubriaco non sapendo bene dove sparava e l'ha preso e tutto sommato forse è la versione più realistica perché in quella gran confusione dire che c'è uno che l'ha ucciso più degli altri è un'illusione e che fine hanno fatto le sue spoglie fu sepolto dagli inglesi fu sepolto con onori militari dagli inglesi però sono state spostate più di una volta sono state poi riportate sappiamo che il culto della memoria come elaborazione collettiva del lutto della prima guerra mondiale che ha portato perdite enormi mai viste è una caratteristica di tutti i paesi tutti i paesi hanno onorato il militare ignosi quindi poi sono state riportate quello che è bello e torna quella cavalleria che citavamo un po' canzi è che gli viene fatto un funerale con gli onori militari dal nemico che ne riconosce il valore si che gli rende omaggio senta che odiamo con una nota leggera ecco con Snoopy con il destino di avere come eterno rivale proprio il barone rosso perché beh è il simbolo della potenza del mito del barone rosso il barone rosso vero non c'entra assolutamente nulla con Snoopy naturalmente eppure ci testimonia come sia rimasta questa figura di Von Richthofen il mito del pilota con la sciarpa vediamo sempre Snoopy sulla sua cuccia con la sciarpa bianca e gli occhialoni pensate che il National Space Museum di Washington forse il più grande il più famoso museo neonatico mondiale ha questa introduzione dissacrante alla sala della prima guerra mondiale ci si entra attraverso la stanza di un bambino che c'ha Snoopy col barone rosso prima di arrivare alla ricostruzione vera ai combattimenti ai bombardamenti proprio per darci idea di come oggi il mito anche nelle sue forme più come dire banalizzate sia però vivo e per molti rappresenti il primo passo dell'avvicinarsi a scoprire questo mondo ormai di quasi cent'anni fa grazie Gregorio Aleggi per essere stato con noi